E' al termine della riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza a Torino che il Ministro dell'Interno Piante Dosi incontra i giornalisti in quello che vuole essere un rapporto sempre più stretto fra cittadini e istituzioni attraverso il canale delle informazioni. Piante Dosi affronta il tema delle versioni anarchiche garantendo quello che è il massimo grado di interesse al fenomeno da parte dello Stato anche in riferimento allo svolgimento delle manifestazioni di piazza, ragiona il responsabile del Viminale. Solo la vicenda che sapete ha riportato l'attenzione ma l'attenzione e le sollecitazioni che venivano da quel mondo, da quella galassia sono state sempre l'attenzione dei professionisti, delle forze di polizia. Quindi se da una parte assicuro che c'è massima attenzione in tutte le direzioni, d'altra parte mi sentirei di lanciare messaggi non rassicuranti, ma non abbiamo come ho detto certezza di episodi gravi dietro l'angolo. Non solo, il Ministro dell'Interno fa riferimento all'impegno attivo del Governo e della maggioranza per arricchire gli organici delle forze dell'ordine attraverso maggiori stanziamenti e la ripresa del turnover fra gli addetti alla pubblica sicurezza. Il Governo ha proposto e adottato dei provvedimenti per accompagnare ancora di più questo processo di recupero del turnover e anche di dotazioni maggiori, sia con stanziamenti in più sia con semplificazioni.